Ecco, arriva, e c'è uomo, ubello. Oh, c'è anche la Noemi. Hai visto? Fa la Madonna. Ma che Madonna? Non lo vedi? Fa la Maddalena. Eh, non lo vedi? Ma a proposito, ma tu chi sei? Come chi sono? Sono Giuda, no? Lo vedi? E poi non sono io che ho fatto la spia. Guarda, c'ho anche la sacca con i 30 denari, la corda per impiccarmi. Oh, sì, ma a quest'ora tu dovresti essere di già impiccato. Ma no, a quest'ora non sono neanche pentito. Anzi, sono di molto incazzato. E gli tiro sassi. L'apigliamolo! Costighiamolo! A morte! Oh, toglialo. Tieni! Oh, io! Massacratelo! Oh, io! Pagliamolo! Pagliamolo! Tieni! Cogna di un infedetto! Sì! Calci in culo! Ma chi è? Oh, non siete voi? Ma mi fate male? Basta! Brutti i finocchi! Sta zitto e porgi l'altra guancia! Oh! Ah, mia! Oh! No, prendi! Mischero! Siete proprio gran figli di... Un'offendere la mamma, eh? Se no, ci ce li fa con la tua! Vai, tieni! Prendi! Oh! Prendi! Poi di rispetto per questo poeretto! No, signora, un nemico a Gesù! È un mischero falsiasi! Ma insomma, non esageriamo! No, Maddalena! Deve bere la mano calici fino in fondo! Ripiglia la croce sulle spalle! Avanti! Forza, forza! Questo è un calvario! Tuo è mica una scappagnata! Un'offendere la croce sulle spalle!